Buongiorno, sono Gabriele Rossi, sono qua a presentarvi l'appuntamento del Mangiagalli Journal Club di sabato 15 maggio. L'intervento è rilevante non tanto per la mia presenza, al quale servirà semplicemente a introdurvi il professor Corren. Il professor Corren è uno dei massimi esperti, uno degli autori più importanti per quanto riguarda il microbioma umano. Sono noti i suoi studi per quanto riguarda la relazione del microbioma umano nell'ambiente perinatale, nell'ambiente ostetrico, per quanto riguarda l'insulino resistenza e l'eventuale ruolo sviluppato nelle altre sindrome ostetriche. In questa occasione tenteremo di fare alcune domande da clinici per sapere ad esempio quanto dura l'insulino resistenza indotta dal cambiamento del microbioma e che effetti ha questo insulino resistenza sul futuro della vita della gestante. E faremo domande ancora più importanti per quanto riguarderà la formulazione delle grandi sindrome ostetriche, ovvero il parto prematuro o l'ipertensione, i disordini ipertensivi legati al microbioma e al grande dibattito che esiste attualmente intorno a questo argomento. I batteri crescono dietro la placenta o non crescono? Il professor Corren ci darà tutte queste risposte.